Napoli basket, Vanoli, Cremona. Vedremo che partita sarà, vedremo chi riuscirà ad aggiudicarsi il primo successo stagionale. Presnian che si prende il tiro della prima tripla di giornata. Ancora Tejon Jones, si prende la tripla, ancora lui, secondo canestro. Ancora Tejon Jones, ancora canestro, 3 su 3, da 3, Tejon Jones. Treier, si prende la tripla frontale. Deve accelerare, un po' di bua, tra luta, fino in fondo. E poi la correzione di Giampini. Finisce il primo quarto, 24-21. Si è fatto trovare al posto giusto, al momento giusto. Tripla, Zach Kofland. Brutto con la persa, invece, la di Laysi. Allora, Mening! Più 5 Napoli, time out, Cremona. Treier, insegnato perco, tende il blocco a dito, tescio di Owens, recupera poi Mening. Ancora una bimane di Charles Mening. Jones, vediamo se ci riprova, sì. Ed è un altro canestro. 5 su 5, da 3. Stiamo facendo un ottimo lavoro in difesa, però poi lasciamo lì, per esempio, Jones, da 3, 3 volte. E se riusciamo a fare 20 secondi di così intensità, non dobbiamo permettere di fare quei tiri. Ancora Giampini, un altro blocco di Owens, ribaltamento. Teijon, Jones. Stazione molto ben congegnata dalla Vanoli Cremona. Ed è 6 su 8 per Jones, da 3. Wolde Tenzae, per la vera Sapocia, Wolde Tenzae, si prende la tripla, Thomas! Wolde Tenzae! Zampini, Bouten, tripla, da lontanissimo. Splash! Ancora vera Sapocia, sta giocando con grande personalità. Contro Owens, Sapocia, palleggio, presto, tiro! Ancora lui, Stefano Saccocia! Davis, ribalta, molto bene per Jones, solo, soletto. La tripla di Teijon Jones, a Corcia Cremona. In una serata come questa, errore imperdonabile, lasciarlo solo. Davis, la penetrazione, lo scarico per Jones. La tripla, vincente, di Teijon Jones, 8 su 11! Jones, fino in fondo! Ancora Teijon Jones, stavolta, appoggiando al tabellone. Da-da, Bout. Centro Owens, Bout. Tre, bel tiro! Due, pesantissimi! Copland, tira in fondo. Due per lui! Jack Copland! Zampini si prende la tripla, corta il rimbalzo, ancora una volta di Jack Copland! Che va da money! Accorcio ulteriormente Napoli! Nikolic per Jones, che provano ad andare da Davis, in qualche modo ci riesce, Davis per Bout. Ancora, Corri Davis, tocca di Nicolau. Davis non trova il canestro, Nikolic! Lui sì! Ed è importantissimo per la Vanali Cremona! 83-79! Ci sono degli elementi positivi da cui ripartire per la squadra di Milicic, che però è un momento decisivo. Un bel parzano si fa superare da Cremona. Full time! Napoli 81, Cremona 87. È la prima vittoria stagionale per la squadra di Icavina. All right, just come out, play hard, take care of the ball. That's what we preach. Some of the first couple games, they had a lot of turnover. We still have some today, probably, but take care of the ball, play hard, just try to get stuff from defense.